ottime notizie per gli utenti alla ricerca di un tablet di nuova generazione per il lavoro e soprattutto per il tempo libero asus ha da poco lanciato sul mercato il nuovo transformer pad 300 un tablet convertibile in notebook che offre tutta la potenza di un vero processore quad core ad un prezzo ancora più accessibile e che all'occorrenza si trasforma pure in una console da gioco beh oggi stiamo annunciando la decisione di asus di continuare il proprio cammino nel mondo del gaming e provare a veicolare i propri prodotti all'interno non solo dei negozi di informatica tradizionali ma anche quello che noi reputiamo essere proprio la casa del giocatore quindi abbiamo stretto un accordo e siamo qua oggi ad annunciarlo con l'importante catena gamestop tramite la quale asus andrà a veicolare parte della propria offerta del nuovo prodotto asus transformer pad 300 proprio appunto all'interno di 400 negozi gamestop su tutto il territorio nazionale il transformer pad 300 è stato scelto perché secondo noi racchiude quelle che possono essere le caratteristiche uniche assimilabili a una console di gioco quindi abbiamo uno schermo ips abbiamo un processore nvidia tegra 3 che permette di poter utilizzare qualsiasi tipologia di gioco e sfruttare al massimo le potenzialità della grafica oltre che abbiamo la possibilità di interfacciarlo con la tradizionale docking di casa asus che permette di estendere l'autonomia della batteria fino a 14 ore garantendo l'esperienza di gioco all'utente finale non solo per poche ore ma per quasi una giornata intera oltre a questo dobbiamo aggiungere che il transformer 300 è assolutamente un prodotto perfetto in quanto la possibilità di collegarlo al monitor esterno lo rende un controller remoto assolutamente perfetto addirittura possiamo collegarlo tramite il cavo hdmi a un monitor per utilizzare tutti i giochi in formato qualora lo fossero perisposti anche in 3d oltre a questo al transformer possiamo addirittura aggiungere quelli che sono i controller tradizionali di gioco quindi andare ad esplorare un'esperienza di gioco attualmente mai provata quindi sia tramite un controller usando il gioco solo direttamente sullo schermo e muovendolo con il giroscopio e guardando sullo schermo delle dimensioni che vogliamo dal piccolo o al grande televisione iniziare a vendere i tablet all'interno dei punti 20 da gistop per noi è un nuovo progetto è una grande sfida è un'opportunità abbiamo accolto asus come partner siamo convinti che il prodotto il 300 tf sia un'ottima risposta per i nostri consumatori e quindi crediamo che attraverso i nostri negozi riusciamo a vendere e riusciamo a distribuire un prodotto che si sposa perfettamente con quelli che sono i nostri clienti quindi il consumatore che oggi gioca con un nuovo modo che appunto è quello di giocare attraverso un tablet come quello di cui stiamo parlando qua oggi il prodotto sarà disponibile presso tutti i nostri negozi per cui più di 430 punti vendita solamente in italia e sul nostro sito internet www.gainstop.it anche in questo caso ci sarà la nostra offerta canonica con il trade in quindi lasciamo spazio i nostri consumatori di portare indietro il prodotto usato per pagare o per scontare quello che sarà il prezzo al pubblico del prodotto ci saranno due tipi di promozioni una legata al ritiro del software per playstation xbox o nintendo wii con uno sconto di 90 euro sul prezzo al pubblico del tablet ci sarà inoltre una promozione con il ritiro di tablet in questo caso del principale concorrente di asus e ci sarà un risparmio dal prezzo al pubblico che partirà dai 100 euro di sconto fino ad arrivare ai 350 euro l'accordo tra asus e gamestop prevede uno sconto di 90 euro sul prezzo d'acquisto portando in negozio tre videogiochi usati per console inoltre gli utenti che vorranno passare da un vecchio ipad a un fiammante transformer pad 300 potranno beneficiare di speciali incentivi con ritiro e supervalutazione dell'usato trovate tutte le informazioni sul sito gamestop.it